chiudiamo la puntata con super mario bros il film finalmente sono stato felicissimo a vedere questo film questo è quello che mi ha convinto di più per tanti motivi quello che mi ha lasciato medio quello di prima l'altro invece in verità mi ha convinto anche con l'altro con l'altro mi è piaciuto quindi ho mentito prima perché non avevo la mente lucida parliamo di super mario bros regia di Aaron Orworth e Michael Jelenic sceneggiatura di Matthew Fogle musiche di Brian Tyler però riarrangiate della musica originale di Koji Kondo cast Chris Pratt, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Jay Ennio Taylor-Joy, Seth Rogen e con la partecipazione speciale di Charles Martinet durata 92 minuti quindi 1 ora e 32 minuti distribuzione italiana Universal Pictures voglio fare qualche nota prima di voglio lasciare qualche nota prima di cominciare io sono contento sia Charles Martinet o Martinet che è il padre di Mario in tutti i sensi nel film come nella vita perché lui è effettivamente la voce quella che noi nei videogiochi sentiamo uh yahoo mamma mia è lui da 26 quasi 30 anni è praticamente lui che dà la voce a Super Mario non dagli esordi perché all'inizio voce non c'era possibilità di implementarla nei videogiochi però da quando è stato possibile lui è stato la voce di Super Mario e ha cresciuto intera generazione gli vogliamo un sacco bene però è presente anche nel film come effettivamente papà di Super Mario quindi ha questo piccolo cameo se lo guardate in originale se no, no io lo guardate in originale quindi le voci di Claudio Santamaria, Valentina Favazza Emiliano Coltorti, Nanni Maldini Fabrizio Vidale e Paolo Vivio non ho idea di che lavoro abbiano fatto onestamente ho solo molta paura per non so chi di loro sia chi è andato però a doppiare Bowser perché è in originale Jack Black e Jack Black ha dei momenti incredibili che io il povero doppiatore che si trova nelle sue scarpe dover adattare magari in italiano certe cose che lui fa soprattutto Canore mi dispiace ma Jack Black è abbastanza inimitabile è insuperabile quindi voglio vederlo mi dispiace perché è veramente un compito ingrato perché è quasi impossibile anzi è impossibile Matthew Fogel per parlare un attimo di lui è già lo sceneggiatore di Lego Movie 2 e Minions 2 come Gru diventa cattivissimo se non mi ricordo male il titolo originale mentre i due registi sono una coppia di produttori e sceneggiatori che ha lavorato a Teen Titans Go e altri progetti Warner e Non e che sono all'esordio alla regia effettivo loro hanno sempre fatto produttori e sceneggiatori non l'hanno mai diretto e qua hanno diretto e se la sono cavata molto bene di che cosa parla il film? anzi prima di arrivare in questa cosa io voglio solo dire anzi no la dico dopo visto che c'è la parte dedicata il film parla molto semplicemente di questi due fratelli due idraulici italiani o più che altro italo-americani che sono Mario e Luigi che stanno fondando la loro compagnia di appunto di idraulici sono due idraulici e stanno cercando di farsi un nome e un giorno nel riparare questa enorme falla che c'è al centro di Manhattan loro finiscono nel Mushroom Kingdom uno finisce da Bowser l'altro finisce nel Mushroom Kingdom che è ma Kingdom che è Mario e i due rimangono nel mezzo di questa guerra tra Bowser più che guerra questo sconto tra Bowser e il regno di Peach perché Bowser come vi so che vuole sposare Peach sostanzialmente è o la sposa o è distruzione questo è sostanzialmente e loro si ritrovano nel mezzo di questa guerra allora partiamo da una cosa tutti noi abbiamo in mente il floppone del 93 ok? che fu prodotto da Jake Eberts e Roland Joffi Eberts tra l'altro ha un curriculum incredibile perché c'ha 1997 Fuga da Los Angeles le avventure del Barone di Mount Chausen Gandhi Balaco e Lupi c'è un curriculum incredibile Roland Joffi un po' meno nel cast Bob Hoskins John Leguiziamo Danny Sopper questa idea orribile di ambientare tutto a Dino Hatton di adattare Super Mario in modo tutto sbagliato perché lì cioè Super Mario parliamone è un video gioco dove la narrazione è un pretesto per farti giocare tutto qui ed è super basilare cioè c'è la principessa tu devi salvare il suo regno perché Bowser la rapisce perché Bowser fa questo oppure Bowser attacca questo regno oppure ci sono questi questo problema in questo tipo Super Paper Mario ha tutta una sua storia legata alla lore del fatto che sia Paper Mario e non Mario normale che c'è il demone di carta queste cose qui ogni volta c'è un piccolo pretesto molto basilare per poi darti libero sfogo ed entrare nel mondo di Mario e qua si sta parlando di un brand che magnificamente dal dall'inizio dell'anni 80 perché si parla del 1981 quando fece il suo esordio con Donkey Kong Mario come personaggio e poi mi pare nell'85 esce il primo Super Mario comunque dai metà anni 80 indicativamente a oggi Super Mario non è mai sceso di popolarità cioè nel senso che anche Super Mario Odyssey Mario Kart 8 gli ultimi usciti Super Mario Odyssey è il Super Mario in grafica 3D quindi dall'epoca del Nintendo 64 più venduto di sempre e di mezzo ci sono stati Super Mario Mario 64 che è uno dei più celebrati Mario Galaxy che anche lì io ce l'avevo è un titolo stupendo Super Mario Sunshine Super Mario 3D World ce ne sono nel mezzo un sacco molto ben riusciti però Super Mario Odyssey è il più venduto di sempre quindi è sulla cresta dell'onda ed è uno dei giochi più venduti in assoluto ancora oggi Mario Kart ha battuto anche lui ogni record è uno dei più venduti di sempre è un grandissimo traguardo in generale ci giocano milioni di fan in tutto il mondo e soprattutto la cosa che a me piace più è Super Mario voi andate online ci sono i gruppi di fan di Super Nintendo che dicono io lo giocavo con mio padre e mettono la foto di loro da bambini col padre con lo SNES e ora lo gioco con mio figlio e c'è la foto del padre o ormai nonno di una certa età loro e il bambino piccolo ormai di 10 anni quello che è che giocano tutti insieme al Super Nintendo la forza in Super Mario è quella e questo serve anche a smentire un sacco di critici che hanno detto eh ma questo è uno spottone per vendere i videogiochi non serve questo non è Sonic questo non è un personaggio decaduto che anche l'ultimo Sonic che il YouTube è orrendo e non riescono a tirarci fuori questa è un'icona che permane nel mondo dei videogiochi dagli anni 80 oggi cioè questo è quasi 30 anni che è lì ed è una cosa incredibile anzi più di 30 anni scusate perché è sede all'85 è più di 30 anni che è comunque lì ed è una cosa meravigliosa ed è un personaggio iconico che tutti nessuno nel mondo credo non conosca Super Mario cioè impossibile ed è una cosa meravigliosa però il flop del 93 fu un flop che prendeva Super Mario per tutto fare live action è orribile però all'epoca l'idea di fare animazione era praticamente inconcepibile soprattutto al cinema trattava i video giocatori come un branco di idioti perché Dino Attam cioè adattava in cinema delle cose senza senso ed era completamente cioè ma era proprio una mancanza di rispetto verso l'opera perché io capisco che Super Mario non ha una gran narrativa ed è molto difficile adattare una roba che non ha una narrativa ma soprattutto ora che ha ormai un'iconografia molto costruita quindi devi adattarti devi piegarti un po' cioè nel senso che l'illumination secondo me l'ha fatto molto bene nel senso che tu hai uno stile visivo di Super Mario che devi rispettare perché se ti ci allontani un po' come Sonic poi la gente si ribella cioè se Sonic dice no ma faccio io una cosa diversa perché lo voglio rendere più umano e fai un casino perché non è Sonic perché la gente lo guarda è un incubo devi adattarti devi piegarti e Super Mario stessa cosa non potevano fare una cosa diversa doveva essere per forza tutto doveva essere Super Mario per com'è il design altrimenti il pubblico sarebbe andato a vederlo e questo era il primo errore di quel film oltre a una sceneggiatura che non aveva alcun senso e degli adattamenti che non avevano alcun senso prendere Dennis Opper e truccarlo da dinosauro per fare tipo Bowser con i capelli a punta fatti col gel era veramente un'idea idiota però al di là di quello in cosa funziona questo film funziona nel capire queste cose cioè da una parte Nintendo ha un po' piallato le gambe degli sceneggiatori perché togliamoci subito il dente se non sta facendo tanta critica perché a livello di narrazione è incredibilmente esile ma esattamente come lo sono i videogiochi che non è una giustificazione è semplicemente che hanno scelto la strada più facile cioè quella più sicura da percorrere anche perché questo film è dedicato cioè tipo io che è dedicato ai fan ecco togliamo ogni indugio è dedicato ai fan è dedicato soprattutto ai fan più piccoli nel senso che il film non cerca ed è questo che parleremo nel post nell'after show quindi non lo vado a snocciolare ora non cerca di darti dei messaggi particolarmente elevati nel senso che tutta la narrazione post Pixar o comunque tutto certo un tipo di animazione che è imparato dal Giappone ha capito che io posso fare un'animazione che ok i genitori portano i figli al cinema però anche il genitore ci può trovare qualcosa non perché perché io onestamente se alla mia età quindi over 35 tra poco over 35 o che siete a quarantenni vi serve un cartone animato per ragazzini per risolvervi la vita avete qualcosa di grave che non funziona però se invece andate e dite ma che bel messaggio che c'è questo cartone mio figlio può questo è un messaggio che magari ora capisce su uno strato ma tra dieci anni quando lo riguarderà Luca avrà introiettato altri strati senza volerlo e lo aiuterà a diventare magari una persona migliore in quel caso lì hai fatto una gran cosa che non tratta il pubblico come uno stupido e cerca di parlargli di qualsiasi cosa per dargli anche dei messaggi che magari nell'immediato non capisce però come fanno tutti i bambini quando gli piacciono lo rivede uno dieci venti trenta volte assorbi determinati dettami morali e quindi ti aiutano anche a crescere io tante opere mi hanno letteralmente cresciuto perché mi hanno dato una formazione morale che non avrei avuto se non avessi assimilato quelle storie che non mi trattavano da stupido mi trattavano come un essere capace di apprendere e quindi mi davano delle morali qua Super Mario non è che tratta il suo pubblico da stupido è Super Mario nella sua accezione più semplicistica quindi la storia come dicevo prima Bowser vuole sposarsi la cacchio di prigipessa o se la sposa o spacca tutto perché è così perché è sostanzialmente una sorta di prepotente anche un po' frustrato anche se in modo divertente e poi dall'altra parte ha il cammino dell'eroe di Super Mario che sostanzialmente ha due moralità Super Mario il fatto che ha questo bellissimo rapporto con Luigi dove Luigi è un po' come nei videogame tant'è che lui è protagonista di Luigi's Mansion dove lui ha sempre paura ed è tutto spettri fantasmi tartarughe scheletro che qua ci sono le tartarughe scheletro sono contestualizzate molto bene poi parleremo anche di questo aspetto lui è quello un po' più che da bambino veniva bullizzato eccetera eccetera Mario è quello che lo difendeva il fratello maggiore che andava sempre in suo soccorso perché lui combatteva per quello che era giusto e da qui c'è quella cosa che c'è già nel primo atto perché loro stanno un po' rischiando tanto con questa cosa di fare i Mario Bros idraulici però è uno che già come si vede dall'inizio anche grazie a una sezione che ha la regia che passa da cartone diciamo evoluto a diventare platforming e loro passano una sezione di New York come fosse Super Mario Odyssey come se fosse un platform però ecco lui è uno che non si arrende mai e quindi c'è il try again ok quella logica dei videogame di hai perso prova ancora cioè che Mario che si rialza e fa yahoo e riparti non c'è mai un game over che dice basta hai perso è finito è morto tutto no c'è sempre quell'idea di try again yahoo e riparti quell'idea lì diventa anche narrazione e questa cosa c'è per quanto facile per quanto non resa particolarmente pomposa anche perché il film si prende un'ora e mezza ha la narrazione è un film classico quindi è molto è molto leggero per quanto leggera questa cosa è lodevole c'è funziona è buono perché Nintendo voleva evitare sostanzialmente quello che sembra chiaro un altro flop gigantesco e dai primi dati box office pare che sia il miglior record ovunque per illumination miglior apertura in molte nazioni tra cui forse anche l'Italia ma non ne sono sicuro di questa ho visto in Germania e in altri paesi miglior apertura tipo di sempre e poi in altri paesi sta andando strabene perché d'altronde è Super Mario e poi ci arriviamo a questa cosa che d'altronde è Super Mario però ecco c'ha questi temi molto semplici come una trama molto semplice perché non volevano complicare il pan e da qui c'è un po' un difetto che tu dici però cavolo potevi dargli qualcosa in più potevi dare 20 minuti in più a questo film ed espandere un po' alcune cose e renderle un po' più un pochettino più strutturate un pochettino più forti ok dare un po' più di forza questa morale potevi fare sicuramente quella cosa lì ma il fatto che non l'abbia fatta è che scelga di parlare un linguaggio molto più semplice e dedicarsi a un pubblico ancora più ampio non è propriamente un difetto è un tipo di animazione che per certi sensi non si insegue sempre però in questo caso di Super Mario funziona perché ha molto altro che lo riempie e che è anonimo per altri perché io tutte le recensioni negative che leggo leggo da critici che vanno sanno che è Super Mario perché tutti sanno chi è Super Mario ma non conoscono niente del mondo di Super Mario quindi loro si annoiano perché il film è banale ed è molto esile a livello di narrativa e quindi per loro il film è brutto ma il film non lo è effettivamente non lo è perché chiunque conosca Super Mario io raramente negli ultimi anni mi è capitato di entrare a vedere un film soprattutto animazione e avere il sorriso sul volto dall'inizio alla fine per tutto il tempo lungo l'ora e mezza io sono sempre stato contento di vedere qualsiasi cosa mi si palesasse a schermo perché a livello narrativo la bravura dov'è stata nel dare coerenza all'idea di Super Mario cioè nel dare coerenza appunto all'idea del platforming come vi dicevo con la scena dove la regia cambia diventa l'inquadratore di un platforming e in un'altra scena che si vede nel trailer dove ti dà l'idea di Super Mario che in coppia Donkey Kong affronta una sorta di livello tra virgolette ok perché si passa da Super Mario Bros l'origine a una cosa in 3D però nel darti esattamente il livello con dietro le montagne fatte in un determinato modo quella cosa lì però con Don Ki-Kong i poteri il fatto è contestualizzato anche il fatto che loro mangiano i funghi e ti dà il potere però se vieni colpito perdi il potere come nel videogioco che è una cosa che va bene in quel mondo lì questa cosa è bello come contestualizzata però appunto ritornando a quella cosa lì nel cambiare in quella scena finale dove Mario e Kong lavorano insieme e affrontano il tra virgolette livello funziona perché lì invece di essere pigro la regia si muove e quindi ti dà un senso diverso però tu che sei videogiocatore riconosce tutto riconosci i suoni riconosci la musica riconosci Mario che fa si vede anche nel trailer lui fa il colpo col sedere quando salta in alto poi schiaccia lui va giù col sedere e schiaccia i nemici è una cosa lì ti scalda il cuore perché è una cosa che hai fatto miliardi di volte io da dal Super Mario che avevo sul Game Boy fino al Super Mario 64 fino a quello che ho giocato Super Mario 3D World fino a qualche settimana fa quella cosa lì c'è sempre stata l'ho sempre fatta e poi ovviamente appunto crescendo il brand l'iconografia è cambiato i mattoncini gialli che li spacchi fa un determinato suono c'è il potere il potere randomico i poteri randomici vengono messi come vengono anche sfruttati il Mario Gatto eccetera eccetera tante cose il Mario Pro si diciamo Procione con la coda che vuole in giro mettono tutte queste cose i kart la personalizzazione dei kart la Rainbow Road che si vede anche nel trailer non sto facendo tutta roba che si vede nel trailer poi c'è tantissima altra roba che non si vede non ve la spoiler però ecco tutte le l'iconografia perché è importante questo quando si fa una trasposizione di questo tipo ed era dove sbagliava quel Super Mario anche perché proprio se non avevi dei mezzi ma l'iconografia di Super Mario che è un videogame dove la narrazione non passa per la trama ma Super Mario è tutto caratterizzato in base a queste cose l'iconografia visiva il fatto che lui dica mamma mia yahoo here we go tutte queste frasi che ha here we go tutte queste cose che ha let's go tutte queste catchphrase che lui ha che nel film ci sono che sono contestualizzate come contestualizzato l'idea più da Luigi's Mansion perché lui va in un altro regno eccetera Peach i Koopa tutti i personaggi del mondo in modo in cui vengono rappresentati e che a livello di scenizzatura hanno senso nel mondo in cui vengono messi in scena perché alcuni dicono sono una serie di sketch non sono una serie di sketch perché la trama è super semplice loro devono e sono nel mezzo di questa battaglia devono recuperare Luigi allo stesso tempo devono evitare che Bowser arrivi e loro devono fare un viaggio cioè pare Jon Snow a un certo punto lui deve andare a recuperare un esercito per affrontare sostanzialmente quello è poi il plot point e deve passare da una cosa all'altra e incontra altri personaggi per riuscire a recuperare questo esercito per farsi dare una mano a qualcuno questo è quello che loro devono fare c'è una narrazione per il quale loro attraversano certe cose non è vero che non c'è è facile ma esiste è esile però allora dobbiamo criticare anche John Wick 4 che è una narrativa esilissima perché è un filo come è un filo in tutti John Wick la spettacolarità passa attraverso altro solo che siccome il fattore di spettacolarità taglia fuori tante persone o meglio taglia fuori chi non ha mai preso in mano un Game Boy un Nintendo 64 comunque un gioco di Super Mario e non capisce cosa succede cioè non cosa succede ma non capisce tutti i riferimenti tutto il mondo tutta l'iconografia perché ripeto la narrazione di Mario passa attraverso quelle cose allora non ti piace è ovvio che non ti piace è ovvio che anche i critici che segue che rispetta abbastanza dicono ah il film è inguardabile ci credo non hai capito niente di quello che hai visto per te tutto quello che hai visto era niente il pubblico di riferimento di quel film che sono i fan di Super Mario impazziranno cioè chiunque di voi là fuori apre Super Mario ama Super Mario non impazzisce perché vai a vedere esattamente quello che voleva vedere un fisso Super Mario che rispettasse l'anima e quello fa ed è perfetto così com'è poi ripeto lo dico poteva elaborare di più la scrittura poteva usare di più e io spero che dopo il mega successo di questo primo capitolo nel secondo dicono ok dai facciamo qualcosina in più cioè io mi aspetto un cioè io vorrei tantissimo un Mario Galaxy lo spazio questa cosa cioè si sarebbe molto figo una cosa del genere puoi fare tantissime cose col mondo di Mario è stupendo è bellissimo è una è una di quelle cose che sia infantile però gli vuoi troppo bene non puoi non voler bene a Super Mario cioè è come Paddington se gli vuoi male sei un essere umano orribile fai a non voler bene a Super Mario per forza amerei quel personaggio del suo mondo oltre al fatto che loro hanno fatto un bel lavoro perché l'esordio contro Donkey Kong è citato in due occasioni perché è citato nel momento in cui loro sono lì nella pizzeria tipo di famiglia e il papà di Mario sta giocando esattamente a quel gioco lì solo che ha un nome diverso perché ovviamente non può essere quello e quando lui incontra Donkey Kong nel trailer si vede appena ma nella sequenza molto bella della sfida con Donkey Kong oh è il livello è quello c'ha i i i tra travetti come si chiamano quelli lì di costruzione di ferro rosso è esattamente quello con i cubi messi i barili che vengono non solo da lì ma anche dai vari titoli di Donkey Kong Country eccetera eccetera sono proprio citazione all'universo di Super Mario tutti i comprimari sono meravigliose sono ovunque sono straordinarie sono bellissime per me anche le musiche di Koji Kondo sono state ben riarrangiate avrei usato di più anche lì cioè ci secondo me ci dovevo mettere un po' più enfasi nell'uso di di certe musiche e impiegarle con un po' più effetto probabilmente per emozionarti ancora di più però sono utilizzate bene e io anche lì le voci inglesi a me sono piaciute tantissimo cioè Charlie Day allora Chris Pratt va bene cioè per me la polemica come disse in podcast riprendere il doppiatore originale per me non aveva senso perché qua è parlato ed è parlato per tanto tempo e lui è stato preso per fare qualcosina qua andava per tanto tempo doveva essere anche drammatico non avrebbe oh let's see who here we go cioè non avrebbe funzionato il tono bisognava per forza dare qualcos'altro quindi Chris Pratt va bene Charlie Day a fare Luigi è stupendo perché deve fare quel ruolo lì Charlie Charlie Day ha questa voce un po' roca un po' di sembarti uno un po' indifeso così ci sta Jack Black Bowser come dicevo prima ha dei momenti musicali bellissimi hanno fatto anche un video musicale dedicato al suo Bowser con la canzone che c'è nel film e lui è stupendo c'è sembra Bowser che incontra i Tenacious D cioè è bellissimo King & Michael J è bravissimo a fare Toddy gli dà un bel carattere ma sono tutti bravi Anya Teleorgiore a fare Peach sono tutti veramente azzeccati il film funziona alla grande sotto ogni scelta ripeto non so il doppiato l'italiano non posso garantire quello perché non li ho sentiti però l'opera originale per come l'hanno fatta secondo me è riuscita potevano fare di certo di più osare di più nella scrittura però ripeto osare di più significava strutturare un po' di più il film su alcuni temi e mettere un 20 minuti di più però così com'è il film funziona è un film per tutti bambini adulti e ci state dentro tutti perché io a 30 quasi 6 anni non vado a vedere Super Mario convinto di vedere un film come se fosse The Last of Us ecco non vado convinto che sia un'interpretazione così vado convinto sarà un bel film che mi riporterà esattamente a quando anche quando gioco con la console mi metto sul divano gioco Super Mario e sono contento perché ritrovo quel mondo colorato colorato non riesco a dire colorato colorato leggero con quella musica pam 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 quando vedi il castello di Peach per la prima volta e parte un certo tema musicale e muori io sono morto perché è dentro di me l'ho fischiettato per giorni quando vi vesto i cartel a Rainbow Road sono impazzito anche se la host sta nel trailer ma vederlo al cinema con poi uno stile di animazione perfetto l'hanno interpretato bene è dettagliatissimo è pieno di dettagli a schermo è stato bellissimo mi ha riportato esattamente a tutti quei momenti che ho passato con Super Mario e quindi per me il film è riuscito spero in un secondo ancora più ambizioso che porti altrove rimanete per i titoli di coda perché ci sono due scene dopo i titoli di coda che danno suggestioni di cosa ci può essere in un secondo capitolo però veramente andate divertitevi perché qua c'è solo da fare quello e senza sminuire la vostra intelligenza perché il film non è che vi prende in giro a livello di intelligenza è un film divertente che è fatto per essere così e non cerca ulteriori complicazioni perché quello che gli interessa fare è darvi Super Mario e quello è e Super Mario è è la cosa più bella è come Paddington se volete amare a Super Mario siete brutte persone a Super Mario